Salve a tutti, anzitutto buon tutto, questo discorso lo voglio fare agli uomini per l'ennesima volta io non accetto commenti dagli uomini perché non sono amici gli uomini miei perché io non credo all'amicizia tra uomo e donna e secondo anche se sono single per il momento per il momento perché sto aspettando una scelta da uno che mi piace di Perugia che amo tantissimo, alla follia da tanti anni perché lo conosco anche a fondo perché il mio conoscente è profondo perché io credo solo alla conoscenza tra uomo e donna e l'amicizia tra donne e donne e basta perché non l'ho mai avuta da piccola e neanche adesso, non tanto ecco, io voglio dire che gli uomini se mi fanno i commenti, che mi scrivono i commenti con ti amo e colicini verranno eliminati perché io non ve li posto perché io amo uno di Perugia e queste cose li faccio solo a quello di Perugia io e li voglio da lui, non da voi, ok? sui social perché non mi conoscete a fondo, perché non sapete come sono di carattere come sono fatta perché non è solo attraverso i video che mi si deve conoscere ok? e poi non cerco amicizia, non cerco amore nei social mi sento appagata da quello di Perugia perché mi piace, perché mi capisce perché mi comprende, perché mi vuole bene ecco, e io sto più vicino a lui, non a voi ecco, anche questo sintomo di ignoranza fare i provoloni, uomini non si fa così con le donne non si fa così prima si conosce bene le persone a fondo e poi si valutano se fanno i certi commenti non bisogna fare così con le donne perché scappano le donne, scappano dovete capire questo questo lo dovete fare alle vostre donne quelle che amate veramente e con sentimento con il cuore non a tutte le donne se no siete provoloni e per me quella persona che mi ha scritto qui su TikTok ti amo col cuoricino gli ho eliminato il commento perché io non chi sei? ma chi sei? mi chiedo per me sei un totale sconosciuto sei un anonimo per me anche se c'hai nome e cognome sei un anonimo ecco prima mi si deve conoscere a fondo a me si deve sapere la situazione mia qual è sentimentale prima di fare certe cose perché io sono ti amo sei un anonimo per me sì